Buongiorno, siamo a Mondiale del Palavolo e quindi siamo tutti molto organizzati. Ci dici se è confermato l'incontro quei sindaci? Ha cambiato idea? È confermato l'incontro quei sindaci? Lì è confermato, è confermato. L'abbiamo prenotato. Buongiorno a te, su Passiglietta. La sua te mi fai passare all'assessore. Grazie, buona giornata, buona serata. E su Passiglietta?